Tra i progetti concretizzati con i finanziamenti dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Chieti c'è anche la web radio Teate On Air, nata nel periodo pandemico con il preciso obiettivo di contrastare l'isolamento obbligato delle persone durante i ripetuti lockdown a cui il Covid ci ha costretti. Ora, lo stesso assessorato è pronto a scommettere di nuovo su un progetto affidato ai giovani, come spiega Manuel Pantalone, assessore alle politiche giovanili del Comune di Chieti. Teate On Air è un progetto vincente che abbiamo inserito nel finanziamento nel Fondo Abruzzo Giovani 2021. Oggi presentiamo ulteriori lavori che sono stati compiuti. Abbiamo confermato in quell'anno circa 23 mila euro in favore di Erga Omnes e di questo progetto, 28 mila euro i complessivi inseriti nel Abruzzo Giovani 2022, di cui circa 25 mila euro a sostegno di questo progetto. Insieme al nostro Informa Giovani volevamo costruire una web radio fatta dai giovani per i giovani della nostra città e della nostra regione. Tanti passi abbiamo fatto in questi anni, adesso c'è anche la parte video, ma stiamo ragionando insieme a Pasquale Lia anche di portare questa web radio in DAB. Ovviamente adesso siamo chiamati in tempi strettissimi a concludere la presentazione per il Bando Abruzzo Giovani 2023. È un fondo del Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri che viene erogato per il tramite di Regione Abruzzo agli enti locali e noi come Comune abbiamo anche quest'anno intenzione di inserire Teatroner proprio per reperire i fondi necessari per un passaggio in DAB che significherebbe sicuramente una crescita di questo progetto che ha al proprio interno due funzioni, quella della sana aggregazione giovanile ma della formazione lavorativa dei nostri giovani in maniera concreta. Al primo piano della sede dell'Associazione Erga Omnes in via Montegrappa a Chieti, Teatroner accoglie la stampa nei suoi studi radiofonici annunciando le scommesse del futuro per voce di Pasquale Lia, presidente di Erga Omnes che gestisce il progetto di Teatroner. Un progetto molto importante, rimarca la sinergia tra le istituzioni e gli enti del terzo settore, un progetto che è stato messo in campo già qualche anno fa nel periodo del Covid, proprio per abbattere le distanze tra i giovani, ricordo che è un progetto proprio pensato per un target giovanile tra i 15 e i 35 anni prevalentemente, che sta crescendo sempre di più, che si pone l'obiettivo di rafforzare lo spazio di aggregazione giovanile, dove i ragazzi possono confrontarsi, ma anche mettere in campo le loro competenze e dare la possibilità poi con un futuro abbastanza vicino, quello di diventare anche un punto di riferimento per il territorio, non solo nell'ambito delle politiche giovanili, ma anche in tutto quello che riguarda la comunicazione.